Sfiziosa, buona e a prova di bis! Oggi prepariamo insieme la parmigiana di patate e scamorza, iniziamo! Iniziamo sbucciando le patate Dopo aver sbucciato le patate le tagliamo a fette sottili all'incirca un millimetro tutte uguali con la mandolina Ora che abbiamo tagliato tutte le patate le saliamo e poi le mischiamo per bene Teniamo le nostre patate da parte e procediamo a tritare le erbe aromatiche Io ho scelto rosmarino e timo Quindi togliamo gli aghetti dalla parte centrale legnosa E adesso passiamo al timo, lo sfogliamo Possiamo mischiarli e tritarli Grattugio la scamorza con la grattugia julienne dalla parte dei fori più grandi In questo modo Eccoci pronti per preparare la nostra parmigiana di patate Abbiamo tutto quello che ci serve Dovremmo fare 4 strati di patate quindi dividiamole per 4 La prima cosa prendiamo una pirofila e mettiamo un filo d'olio sul fondo Distribuiamo le patate Metto del pepe Un po' di erbe aromatiche Un filo d'olio E un quarto della nostra scamorza stagionata E proseguo nello stesso modo formando altri 3 strati Siamo all'ultimo strato Quindi ora cospargo la superficie con la scamorza In questa ciotola mischio formaggio grattugiato e pecorino grattugiato E cospargo la superficie Un ultimo filo d'olio Copro la mia pirofila con un foglio d'alluminio Inforno la mia parmigiana di patate nel forno statico a 200 gradi per 20 minuti Dopodiché toglierò il foglio d'alluminio e continuerò la cottura per 10-15 minuti Ecco la mia bellissima teglia pronta Non vedo l'ora di portarla a tavola e far felici i miei ospiti Sei una belissima teglia pronta Sersi Grazie a tutti.